Lo sai che quando ero piccolino come te, la nonna, la nonna Rosa, cioè la mia mamma, aveva questa macchina qua, la Cincent, però era tipo giallina, begiolina, e faceva la doppietta, andava tutto gastro, la doppietta e partiva tutta birra, e andavamo dalla tua bisnonna, la mia nonna in cascina, a Vakarenk, e lì c'era un parco macchine invidiabile, c'era questa della mamma, lo zio Mauro aveva la ritmo 650 nera, lo zio Giorgio aveva la ritmo 650 beige, cioè non c'ho 650, non ne sono sicuro, e il tuo nonno, il mio papà, il Ciano, aveva la Citroën D.A. in due cavalli, il tuo nonno è sempre viaggiato con delle macchine scassone, andiamo a vedere cosa fa la mamma, andiamo. Ma guardate Ricky, ma che sia stato Edoardo, oh mio Dio!